Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati sulla Dragon Block, la serie di Minecraft in cui scopriamo insieme tutta la storia di Goku e dei guerrieri Z. Oggi finalmente ci sarà la battaglia finale con Cell Perfetto, quindi il nostro grandissimo Joseph dovrà trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello per la prima volta. Per questo video davvero speciale superiamo assolutamente i 5000 like, fatevi sentire un botto e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ora al mio canale YouTube. Io direi finalmente quindi di iniziare, oggi non affronteremo solo Cell Perfetto ma anche gli androidi, quindi sarà una puntata bella corposa per andare a concludere definitivamente tutta la saga degli androidi. Poi vedrete, di sicuro vi spiegherò tantissime altre cose. In primo luogo voglio ringraziarvi davvero tantissimo per tutti coloro che sono venuti al Games Week. È stato un evento assurdo, un vero successo in compagnia di Tuberanza, quindi grazie. E poi volevo parlarvi dei prossimi episodi di questa serie Dragon Block. In pratica noi potremmo continuare anche oltre Dragon Ball Z. Sono riuscito finalmente anche ad introdurre Dragon Ball Super e non appena arriverà sono sicuro che impazzirete dalla felicità. Poi, non appena finiamo questa saga, ormai ho deciso. Non andremo subito avanti con la saga, quella lì di praticamente Majin Buu, ma evocheremo il Drago Sharon. Vi mostrerò poi, finalmente, dopo tantissime volte che l'ho detto, anche lo scimmione dorato, quindi lo scimmione che tra virgolette si trasforma in Super Saiyan. E quindi, in questo modo ragazzi, riusciamo a vedere tantissime altre cose che sono racchiuse qui nella Dragon Block. Io vado solo un attimo qui da Karin per farmi dare un altro senso e poi non abbiamo altro tempo da perdere. Dobbiamo subito andare in battaglia e ora vi dimostro anche il perché. Vediamo un po' qui. Combatti Cell, ma a quanto pare ci sono altri androidi in giro, quindi dobbiamo andare al Dirty Stony Biome. Quindi ragazzi, andiamoci. E credo che la zona possa andare bene, no? Ecco qui, come al solito, i dinosauri che con un singolo pugno butteremo giù. Eliminiamoli assolutamente. Almeno ci prendiamo un altro po' di carne che, di certo, non ci infastidisce. Next. Ed eccoci qua. Dobbiamo eliminare l'Androide 16 e l'Androide 17. Quindi incomincio a temere che combatteranno insieme. Vediamo ragazzi, eccoli qua. Noi li vediamo per la prima volta perché fino ad ora abbiamo sconfitto solo C18. Chi dite che è il caso di sconfiggere prima? Proviamo con C16. Io ragazzi direi di sì. 3, 2, 1. E vai, subito. 326 danni. Ok, ragazzi, sono alti. Il nemico però è fortissimo e distrugge anche l'arena di gioco. Io proverei subito con la mossa che abbiamo creato insieme, ovvero il canone devastante. E trovo che sia devastante anche il fatto che loro ci attacchino insieme. Guardate lo scontro tra le due aure! Mamma mia, ragazzi, è assurdo. Quindi io proverei con una kamehameha adesso. Vai così. Distruggili! Ok, ragazzi, entrambi hanno una vita piuttosto elevata, eh. Questi non scherzano. Quindi io proverei anche a colpire con un bel masenco. Aia! Mi hanno fatto un botto di danni. Direi di mangiare un po' di carne. Perfetto. Ci spostiamo un attimino. E come vedete è davvero difficile riuscire ad avvicinarsi. Io utilizzerei anche il machenko sappo di piccolo. Vai che lo ricarichiamo ulteriormente. E provo a colpire lui. 650. Non male per nulla. Come potete notare, forse avrei dovuto ulteriormente allenarmi, avere più vita. Ma ormai questo è quello che succede. L'ho colpito? Sì, è ormai nel raggio. Ed ha iniziato anche a piovere. Quindi vorrei avvicinarmi a lui se ci riesco. No, sono in grande difficoltà. Mamma mia, ragazzi, subito un senso. E poi vorrei iniziare a volare. All'improvviso mi sono trovato davvero in una condizione pessima. Dai che recuperiamo un po' di energia. E ci riproviamo con un altro machenko sappo. Poi, ragazzi, proveremo anche con la sfera genkidama per provare a fare qualche danno in più. 583 preso in pieno. E andiamo con la kamehameha. Però siamo di nuovo al terreno. No, non va bene. Aspetta, aspetta che mi avvicino. Loro due sono messi là. Rinchiusi! Li ho presi? No, sei solo distrutto l'intero scenario. Ragazzi, stiamo distruggendo la terra. Quindi invece di proteggerla, quasi quasi stiamo facendo danni. Vabbè. Non appena lui lancia la sua sfera di energia, provo ad avvicinarmi. Perché non la lancia? Vabbè. Mi avvicino. Gli ultimi colpi. Dai che ci sono. Mi ha preso. È tosta, è tosta, è tosta. Ma ce la faccio. Ce la devo fare. Metto il senso. Mamma mia ragazzi, meno male che l'ho messo. Mi stava per arrivare una sfera di energia potentissima. E quindi c17 è stato definitivamente abbattuto. Ora non resta che buttare giù anche c16. Dovrei riuscire a farcela in tempistiche brevi. E mi avvicino. Gli metto subito paura. Ai ai ai, mi ha fatto male. E ci sono. No, l'ho ricaricato troppo. Quindi vado a consumare più energia del dovuto. Ma cos'è? Sfera di energia troppo alta. Troppo grossa. Colpiscimi. E ora tocca a me. Adesso ti prendi le mazzate sotto le gengive. Vai così. Gli ultimi colpi. Aia. L'ho eliminato? Credo di sì, ma ho un timore. Ragazzi, che lui si sia colpito da solo. Spero di no. Io in ogni caso mi mangio un po' di carne. Perché devo recuperare energia. Adesso andiamo a vedere. E purtroppo sì. Non ci credo. Si è eliminato da solo. Perché queste cose? No. Quindi purtroppo niente da fare. Vuol dire che lo devo malmenare di nuovo come sempre con i pugni. Quindi ragazzi si va così. Devo di nuovo eliminarli come se iniziasse da capo. Brutta, bruttissima storia. Però non mi fermo. Ci vado. E questa volta ragazzi è un po' più diretto. Devo colpire nuovamente. Col canone devastante. Credo ragazzi che con questo lo devastiamo. Colpiscilo ora. No, si sono scontrate le due aure. Questa non ci voleva. Arrivai con la sfera Genkidama. Proviamoci. Ragazzi devo abbatterlo. Vai. Beccalo in pieno. Mi sono fatto dei danni anch'io eh. Forse le due aure si sono riscontrate. Cioè costui ragazzi. C16 non vuole davvero essere sconfitto. E tra l'altro sarà un personaggio che ovviamente rivedremo anche direttamente all'interno di Dragon Ball Fighters. E mentre chiacchieravo il nostro nemico è stato definitivamente abbattuto. E credo che questa volta non dovrebbero esserci problemi. Però andiamo a controllare. E infatti è proprio così. Noi diciamo che l'abbiamo fatto per proteggere. E quindi vai procediamo. Ed è giunto il momento di eliminare Cell. Almeno credo che sia così. Devo ammettere che questa battaglia è stata davvero tosta. Molto più di quanto mi aspettassi eh ragazzi. Ve lo devo ammettere. Ma è giunto il momento qui in questo scenario con tutte queste montagne di affrontare definitivamente Cell. Vediamo se riusciamo ad abbatterlo. Prima però voglio fare una cosa molto importante. Creare una nuova mossa che andremo a chiamare Kamehameha Padre Figlio. Per andare a ripercorrere proprio l'intera storia di Dragon Ball Z. Andiamo però prima a decidere il tipo. Devo scegliere Wave. Come danno, permettimi, deve essere qualcosa di devastante. Quindi andiamo con 800. Proviamoci ragazzi eh. Anche se il costo poi diventa elevatissimo. Per quanto riguarda questo ha il colore. Direi che questo qui di base ci potrebbe pure stare eh. Oppure la facciamo blu. La chiamiamo Kamehameha Father Son. Vediamo ragazzi. Con questa dovremmo esserci eh. Vorrei solamente vedere se come mossa è convincente oppure no. Vediamo un po'. La mossa si va subito a formare. Sembra essere abbastanza potente. E sì, ci siamo. Questa è, come dire, la sfera, il raggio che andiamo a creare. Bisognerà vedere se poi in combattimento è davvero utile oppure no. L'idea sembra essere abbastanza positiva al momento. Ma per capirlo dobbiamo buttarci ovviamente nella battaglia. Ed è quello che ora faremo. Eccoci qui. Prepariamoci. E start. Ecco a voi finalmente Cell. Non so se sarà praticamente l'ultimo scontro con lui. Io credo di sì. Molto molto probabile. Sto provando a malmenarlo ma lui ha ben 16.000 di vita. E non si è ancora trasformato. Quindi vuol dire ragazzi. Ah ecco si è trasformato. Stavo scherzando. Ha 17.600 di vita. Oh cavolo. Subito Senzu. Mamma mia ragazzi cosa stava per succedere. Con un colpo mi stava per malmenare. Mi stava andando proprio male lì ragazzi. Eh ve lo devo ammettere. Proprio male male male. Per fortuna me la sono cavicchiata abbastanza bene lì. Allora ho scelto un'altra mossa per sbaglio. Non so quale questa sia. Provo comunque a colpire il mio avversario. Ed è una sfera di energia. Praticamente è il Bing Bang. Che consuma davvero un botto ragazzi. Molto più di quanto in realtà serva. Allora io direi di provare adesso con la camia mia padre figlio. Ovviamente dovremo colpirlo più volte. Per riuscire a fargli andare a segno questo colpo. E sembra che lui riesca comunque a difendersi bene. Per fortuna al momento si è fermato. Io vi ricordo che anche negli scontri precedenti. Questo nemico riesce ad essere davvero fastidioso. E ancora. Quando fa la sua sfera di energia. Poi non riesce a beccarlo. Aiaiaiaia. Ma preso. Non ci voleva. Lo colpisco io adesso. L'esplosione è stata davvero assurda. E ha colpito anche me. Guardate l'acqua lì ragazzi. Io proverei un attimino con questo Masenko. Mi devo avvicinare. Ma non troppo. Ancora così. Ma questa. Cioè quest'onda di energia è molto più potente. Ah ragazzi. Mi sa che potevamo farne una anche più grossa. Forse proprio come il cannone devastante. Vabbè. In ogni caso. L'importante è che sia questo tipo di colpo. Ovvero un colpo che poi. Toglie più energia. Anche mano a mano. Che fa il suo effetto. Che continua a colpire l'avversario. Vai così. Colpisci ora. Molto molto bene. Ragazzi. I danni glieli stiamo facendo. Però stiamo consumando davvero tanta energia. Un po' di tutto. Facciamo così. Non ci curiamo. Non sprechiamo quello che abbiamo a nostra disposizione. E proviamo ad eliminarlo. Noi siamo fortunati. Che lui sembra. Voglia stare fermo. Non so se si è buggato. Ma io direi di sfruttare il più possibile questa cosa. Visto che come avete notato. Fino a poco fa. Lui correva verso di noi. Cioè proprio. Era un forsennato. E voleva colpirci. Vai così. L'ho preso in pieno. Gli abbiamo tolto davvero tanta tanta energia. Ma a me toccherebbe un attimino salire verso l'alto. E mangiare qualcosa. Per riprendere energia. Se ci riescono. Che si avvicina. Mi sa ragazzi che il bug che aveva si è tolto. Non ci voleva questa. Andiamo a curarci un altro po' bene. Molto molto bene. E ci spostiamo. Via ragazzi. Allora. Un'altra Kamiamiati sta per arrivare in faccia. Mio caro Cell perfetto. Via da qui. E colpiscilo. Boom. No. Era un masenco. Va bene. Ci accontentiamo tanto con i danni. Diciamo che siamo comunque riusciti a fargli molto molto male. Continua a salire. Molto bene. L'ha fatto anche lui. E ci siamo scansati un colpo potentissimo. Siamo stati molto fortunati lì ragazzi. Allora via. E continuiamo a colpire con un'altra Kamiamiapadrefiglio. Io devo concludere assolutamente con questa lo scontro eh. Ora la sto facendo un paio di volte ma tranquilli finiremo con questa. Vai così. Lui mi ha colpito. Io andrei vicino. Vai ancora un po' e poi via subito. Via via via. Meno male. Meno male ragazzi. E a questo punto sapete che vi dico. Direi di trasformarsi anche in Super Saiyan di secondo livello. Quindi andiamo con G. E la nostra trasformazione boom è andata ulteriormente. Ve lo faccio vedere in velocità ed eccolo qui. Purtroppo non posso temporeggiare. Altrimenti ragazzi il nemico ci distrugge letteralmente. Al momento ha poca vita. Quindi vuol dire che possiamo continuare ad inferire su di lui. Facendogli tantissimi altri danni. Sì ragazzi ci sta. Vorrei fargli un ultimo paio di colpi così. Via 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 via. Ma preso comunque io sfrutterei un ultimo Senzu. E credo che per lui sia davvero la fine ragazzi. Io proverei a fare un'ultima Kamehameha. Padre figlio. Per devastare definitivamente Cell. Vai così. Questa Cell mi dispiace ma sarà la tua fine. E invece no. Ragazzi è riuscito a resistere. Allora noi cambieremo la storia. E distruggeremo l'avversario con un cannone devastante. Vai così devastalo. E l'abbiamo messo al tappeto. E questa è un po' tutta la sua esperienza. Ragazzi Cell credo che ormai sia stato definitivamente abbattuto. Guardate Joseph come è provato da questo scontro. Ma alla fine abbiamo salvato il pianeta. La saga di Cell quindi ragazzi finisce. E il nostro Joseph ormai verrà catapultato nella saga di Majin Buu. Ma non solo. Presto vedrete anche i film Dragon Ball Super e tanto tanto altro. Come le sfere del drago e il drago Sharon e la trasformazione in ozaru dorato. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui al centro. Non vi perdete i prossimi episodi. E guardate anche altri video presenti sul mio canale cliccando sulle due miniature che vedete ora a destra e sinistra. Quindi alla prossima. Ciao. Ciao.